No, di questo non sarà qui più, sarà qui più investito. Ci siamo quasi, il momento si sta avvicinando con il prezio. I ragazzi stanno ricevendo le ultime direttive e tra poco anche in Italia si farà in vendita i novissimi iPhone. E siamo quasi tutti davanti alla porta. Grazie.